Una giornata dedicata proprio all'orientamento dei giovani che dovranno scegliere quale indirizzo affrontare per lo studio degli anni successivi. In questo caso nel Dipartimento di Economia e Ziendale, cosa viene presentato ai giovani e soprattutto che risposta c'è? È importante questa giornata perché i ragazzi entrano nelle aule e si rendono conto di come vengono impartite le lezioni, di come cerchiamo sempre di rinnovarci, innovarci con degli strumenti didattici innovativi e di quali sono i nostri contenuti. È davvero una giornata molto importante, vede che c'è una grande risposta da parte degli studenti. Quando si parla di lavoro giovanile si parla sempre di un mercato che cambia e dei tempi che in qualche modo chiedono di essere adeguati alla domanda. In questo caso ci sono nuovi strumenti, proprio questo Dipartimento introduce continuamente nuovi corsi, in questo caso i nuovi strumenti quali sono? Non più solo le lezioni frontali ma anche testimonianze privilegiate del mondo del lavoro. Noi ci teniamo molto a creare questi momenti di incontro con gli attori del territorio, gli imprenditori, associazioni di categorie, perché i ragazzi devono non solo acquisire la teoria, che pure è sempre molto importante, ma anche l'applicazione, ma anche conoscere quelle che sono anche le esperienze del mondo del lavoro. Qual è il consiglio che rivolgete a un giovane che deve scegliere un indirizzo di studio? È di informarsi, di non stare solo a sentire noi, quello che diciamo noi, perché potremmo comunque avere una visione parziale. Di informarsi, di andare su internet, loro sono bravissimi, di confrontare le proposte e soprattutto di non fermarsi ai titoli. Vedere come sono strutturati i corsi, quali sono le materie, chi insegna, qual è il curriculum dei docenti e soprattutto quali sono i contenuti. Grazie.